musica 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 ok quindi ora lo stringi e crei una sorta di cono che prende questa forma poi crei il cilindro e poi dal cilindro crei la B musica 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 va le e Il mio nome è Beatte Binden, sono da Svizzera, sono ingegneria elettronica, ho visto un'app da Antoinette che sta facendo corsi qui e ho pensato, beh, vabbiamo, e sono felice che ho fatto. Il mio nome è Dania Ackermann, sono il Geschäftsführer del Lehmhaus AG, qui per l'EIBEDARF, 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 Grazie a tutti per l'EIBEDARF. Grazie a tutti. Grazie a tutti.